Egregio signor Sindaco, la ringrazio per l'inmito all'incontro per l'inaugurazione del tanto atteso Parco della Memoria e porgo un cordiale saluto alle autorità e ai presenti tutti. Quando sono stata chiamata un brivido mi ha percorso la schiena. L'inaugurazione tanto attesa cade il 28 settembre. Nel 1978, quel giorno, ricevetti il più bel dono per il mio compleanno, la mia Gio, deceduta in mia forte braccio sette insieme al mio nipotino Francesco, a mio genero Luigi e a Giorgia. La nipotina che portava in grembo avrebbe dovuto nascere proprio quel 6 aprile 2009. Dal primo istante della mia tragedia ho coltivato l'importanza della prevenzione e del ricordo, soprattutto per chi, avendo perduto solo cose materiali, generosamente rimborsate dallo Stato italiano e da quelli esteri, non dimentichi quanto un sisma possa causare ferite che non si rimarginano più. Auspico che il significato del Parco della Memoria venga recepito in questo giusto senso dai miei concittadini. Com'è giusto andare avanti, così è giusto passeggiando intorno alla fontana, rivolgere un pensiero alle 309 vittime. Sono fuori città e non sarò presente per seri motivi familiari e anche perché da tanto mi sono dissociata da iniziative polemiche, ma ogni giorno da più di 12 anni ricordo il genetliaco di queste anime e il 6 di ogni mese partecipo alla Santa Messa in loro suffraggio e spero di continuare fino all'ultimo dei miei giorni. Ho voluto che questa cerimonia iniziasse con la lettura, sluggente ma piena di speranza, di Renza Bucci, nonna Renza. Insieme a lei ringrazio i familiari delle vittime per la loro presenza e in particolare il dottor Massimo Cinque e do il benvenuto ai cittadini, ai rappresentanti delle istituzioni ed esprimo un sentimento di profonda gratitudine al presidente Mario Draghi e al ministro Mara Carfagna. Il bisogno di rammentare quanto accaduto il 6 aprile 2009 attraverso il parco della memoria è legato alla necessità di legittimazione della sofferenza subita in una città che rinasce, al di là dei luoghi simbolo del post terremoto come la casa dello studente che rimarranno i nostri paesaggi del cuore. I parenti delle vittime e la comunità tutta hanno chiesto all'istituzione la realizzazione del parco, costruito anche grazie al generoso contributo degli allievi della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza e di Italy, che ringrazio, affinché il dolore collettivo trovasse spazio nella narrazione pubblica del tessuto urbano. Antonietta Centofanti, donna forte e determinata, con un portato di dolcezza e sensibilità umana scolpite dal dolore, su questa visione valoriare ed etica del parco si è fatta portavoce. È stato un privilegio conoscerla e la sua inaspettata perdita è stata per tutti noi un duro colpo. Presidente Draghi, nel corso della recente Assemblea di Confindustria lei ha spicato per il Paese un patto sociale per una crescita duratura. E noi, da questo luogo così evocativo, dove il ricordo diventa nutrimento per il futuro, lanciamo un patto per la rinascita duratura delle aree interne, quale prospettiva innovativa, laboriosa, sicura, sostenibile, elevando il nostro territorio a modello per l'intera nazione. Dalla nostra esperienza sul campo, infatti, è scaturita la lotta al precariato dei giovani impegnati nella ricostruzione, riaffermando il principio delle competenze come base fondamentale per esercitare il diritto costituzionale del lavoro. Dalla nostra esperienza e dalle nostre battaglie sono scaturite le semplificazioni dei procedimenti per l'edilizia scolastica, che auspichiamo saranno estesi a tutto il sistema per garantire un utilizzo rapido e appropriato delle risorse disponibili dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per garantire un orizzonte di prosperità per i nostri figli. L'Aquila vanta una condizione geografica tattica centrale rispetto alle città penniniche, potenziata dalle conoscenze acquisite nel post-sisma, dall'essere sede di centri di eccellenza nel campo della formazione e della ricerca, dall'attaccamento della sua gente e dalla voglia dei suoi giovani di continuare ad essere protagonisti della rinascita. Tutto questo fa dell'Aquila e del cratere un modello di riferimento, una fabbrica di idee, un territorio che mostra nuove possibilità di crescita, una realtà dalla quale dare forma e contenuto a progetti ambiziosi e duraturi. La rifioritura dell'Aquila è anche il prodotto di un sistema virtuoso di saperi e azioni culturali teso a dare alle nuove generazioni la forza del ragionamento e dei sentimenti, perché né terremoto né pandemie possono averla vinta sulla loro voglia di vita, una voglia di vita che in questo parco trova la sua ragione e la sua forza. Prende la parola Massimo Cinque, medico aquilano, uno dei familiari delle vittime del sisma. Buongiorno a tutti, io parlo abbraccio, non ho preparato niente, quindi dico quello che mi viene in mente in questo momento. Intanto ringrazio il Presidente, il Ministro che attraverso il Sindaco e tutta la Giunta Comunale ci hanno onorato oggi della loro presenza qui per inaugurare questo parco della memoria. Se mi avessero detto anni fa, oggi è 28, il 28 settembre del 2021 sarai qui insieme al Presidente del Consiglio, al Ministro, al Sindaco a inaugurare questo parco, mi sarei fatto una risata, perché insomma penso che nessuno più di me in questo momento gli passa davanti tutta la vita, perché io sono nato in questo palazzo nel 66, ho abitato qui con i miei genitori fino al 78, quindi 12 anni, ho passato i 12 anni della mia vita in questo piazzale, giocando a pallone con le palline qui sopra, quindi per me questo luogo, per me personalmente è un luogo più che della memoria. I miei figli sono nati qui e la stessa cosa fino a 12 anni hanno vissuto qui facendo di tutto, di più, due maschi, 12 e 10 anni, quindi chi li ha conosciuti insomma sa quello che erano, quello che hanno fatto, quindi trovarmi qui oggi per me è veramente doppiamente doloroso, al di là di questo però io credo che sia una giornata oggi importante, bella, dobbiamo mettere da parte le polemiche, se no non andiamo da nessuna parte, oggi deve essere una giornata di ricordo, una giornata di gioia, io credo che loro, i 309 angeli che dico sempre io quella notte non ci hanno, sono volati in cielo però si sono trasferiti in un piano superiore, dico sempre io, loro continuano a essere sempre presenti, sempre vicini a noi, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, li sentiamo sempre vicini e loro io credo che oggi sono contenti di questa giornata, di questa bella giornata che deve essere appunto una giornata del ricordo, se ci togliamo il ricordo, ci togliamo la memoria non ci resta più niente, poi le polemiche ci saranno sempre, purtroppo nella vita è così, io dico sempre non possiamo piacere a tutti, sarebbe assurdo, no? Alcune persone piaciamo, ad altre no, quindi la stessa cosa, questo parco che secondo me è un punto importante per la città, del ricordo, della memoria, ad alcuni piacerà, ad altri no, però pazienza, andiamo avanti, l'importante è che è stato realizzato, ci è voluto tempo, ci sono state delle lungaggini burocratiche, delle problematiche, non dimentichiamo la pandemia che sono ormai quasi due anni che ci impegna, quotidianamente tutti, insomma, quindi l'importante, ecco, è ottenere il risultato, quindi io l'unica cosa, ecco, al Presidente, al Ministro, l'unica cosa che noi all'Aquila, perché siamo stati scottati, ma penso che un po', essendo l'Italia una nazione sismica, no? Tutta, quindi investire un pochino più sulla prevenzione, io direi questo, è importante la prevenzione, è chiaro, noi l'abbiamo sempre detto, pure nel processo, c'è stato il processo, tutto quello che c'è stato, ma al di là non voglio entrare in merito perché non sta a me e non spetta a me, però è chiaro che tutti sappiamo che i terremoti non possono, non si possono prevedere, no? Come le eruzioni dei vulcani, tutte le calamità naturali, però costruire bene si può, ecco, questo è il messaggio importante che deve passare, si può e si deve costruire bene per far sì che tanto molto spesso si dice no vabbè il terremoto ormai c'è stato, mo ci sarà fra 300 anni, no non è così, dobbiamo appunto prevenire, lo dico da medico, no? Prevenire è meglio che curare, diciamo sempre, no? Quindi facciamo una buona prevenzione per far sì che fra 300 anni noi non ci saremo più, ci saranno altre persone però che non debbano piangere le vittime per delle mancanze altrui, quindi su questo è importante che ci sia una spinta, ecco. Grazie a tutti, quello che ha detto Renza Bucci è veramente estruggente, non ci stanno parole, insomma è una cosa, è racchiuso un po' tutto nel dolore che abbiamo noi ormai da 12 anni tutti quanti, però ripeto, dobbiamo andare avanti nel loro ricordo, nella loro memoria e di questo sono convinto che loro ne sono felici. Grazie a tutti e buona giornata. Prende la parola Chiara Coletti, studentessa dell'Istituto Comprensivo Cesira Fiori San Demetrio Rocca di Mezzo, in rappresentanza del territorio del Cratere 2009. Il 6 aprile 2009 alle 3.32 all'Aquila e molti altri paesi del circondario vengono svegliati da una forte scossa di terremoto. Noi siamo nati proprio in quell'anno, tragico, e conosciamo gli eventi grazie ai racconti dei nostri genitori e anche perché intorno a noi ci sono esempi concreti di quanto accaduto, come case, chiese, edifici distrutti o ingabbiati, oppure gru che fortunatamente significano ricostruzione. Purtroppo 309 persone non ci sono più, a loro va il nostro pensiero, oggi e sempre, nella speranza che in futuro non si debba più ripetere la morte di esseri umani, dovuto a fenomeni che, pur non potendoli prevedere, si possono mitigare, costruendo in modo sicuro. Diventeremo grandi e magari qualcuno di noi farà l'ingegnere, il medico, l'avvocato o il politico. Saremmo comunque cittadini con doveri e diritti. Tutti dovremmo sempre, ognuno per il proprio ambito, lavorare per il bene comune e per ridurre rischi, sia per la salute che per l'incolumità della collettività. Prende la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Su eminenza il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Sindaco Pierluigi Biondi, Prefetto Cinzia tedesca Teresa Torraco, Vicepresidente Emanuele Imprudente, rappresentanti del Comitato dei Familiari delle Vittime, onorevoli parlamentari, autorità tutte, signore e signori. La mia presenza oggi serve a ribadire, prima di tutto, il dovere del ricordo. La scossa di terremoto che ha colpito l'Aquila nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009 appartiene alla memoria collettiva dell'Italia e del mondo. Ricordiamo le 309 persone, i 309 angeli, per usare le parole del Dottor Cinque, che hanno perso la vita e i loro cari, a cui va ancora oggi il mio più sentito cordoglio. Tra le vittime tanti bambini, tanti giovani, come gli otto ragazzi e ragazze della Casa dello Studente, che in questa città erano venuti per prepararsi il futuro. Penso anche a tutti coloro che hanno perso la casa, la sede della propria attività o anche i luoghi della loro spensieratezza. Un terremoto, come è accaduto per gli altri che hanno colpito il nostro Paese, è una ferita profonda inferta a questa comunità. Noi non possiamo dimenticare, noi non dobbiamo dimenticare. Ma oltre alla responsabilità della memoria, il Governo deve assumersi l'impegno dell'azione. Mi riferisco alla ricostruzione post-sisma, che procede ovunque, ma con velocità diverse. Nella città dell'Aquila il rifacimento degli edifici privati ha ormai superato l'ottanta per cento, grazie anche all'introduzione di tecniche e procedure innovative, di cui possiamo oggi essere orgogliosi. Negli altri comuni del cratere il processo è invece più lento. I ritardi colpiscono soprattutto la ricostruzione pubblica, che non ha ancora un piano completo. Parlo di scuole, ospedali, strade, uffici, chiese. Gli edifici che rendono un luogo una comunità. Dobbiamo accelerare. È un obbligo morale che abbiamo verso voi tutti, cittadini. E dobbiamo farlo per aiutare la ripresa economica di queste zone. Il terremoto del 2009 ha causato perdite stimate in oltre 200 milioni di euro all'anno. L'undici per cento circa del valore aggiunto complessivo dell'area, di questa area, a cui si sono aggiunti i danni della pandemia. Ma il tessuto sociale e produttivo dell'Abruzzo è rimasto vivo, vivo, nonostante le tragedie e le difficoltà. E dobbiamo continuare a sostenerlo. Il Governo ha deciso di destinare un'apposita linea di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai territori del centro Italia colpiti dai terremoti del 2009, 2016 e 2017. Ha un valore questo stanziamento di 1,78 miliardi di euro e finanzia la ricostruzione sicura e sostenibile, il recupero ambientale, iniziative a sostegno di cittadini e delle imprese. In settimana diamo il via a questo programma, con l'approvazione del provvedimento che ripartisce le risorse tra le finalità di investimento. Destiniamo oltre un miliardo di euro per restituire vitalità alle comunità locali e, in particolare, per rendere le città e i borghi sicuri, sostenibili e connessi. Altri 700 milioni di euro vanno allo sviluppo e rilancio economico e sociale. Sosteniamo le imprese innovative. Valorizziamo le risorse ambientali e le vocazioni produttive locali, come l'agroalimentare, le imprese culturali, turistiche e creative. Realizziamo centri di ricerca e istruzione, come il centro di formazione tecnica per la pubblica amministrazione, che sarà realizzato nel Comune dell'Aquila. Tutti questi investimenti vogliono essere un impegno concreto per la ripartenza. Le risorse servono, ma da sole non bastano. C'è bisogno di capacità progettuale e amministrativa, come dimostrano a partire dall'Aquila i casi di maggior successo nella ricostruzione post-sisma. Abbiamo costruito per gli investimenti del PNRR e del Fondo Complementare un modello di governo che punti sulla semplificazione delle procedure e sullo stretto coordinamento tra amministrazioni centrali e territoriali. Vogliamo valorizzare l'esperienza maturata sul campo dai sindaci, dagli amministratori regionali e locali e dalle strutture tecniche e commissariali del governo. Avete svolto un lavoro di collaborazione paziente per il rilancio di questi luoghi, di cui il governo e l'Italia vi sono tutti grati. È molto importante questo punto, nel senso che queste cose si realizzano solo se c'è collaborazione, quasi osmosi, tra il ruolo del governo e il ruolo degli enti locali e delle regioni. E voi ci siete riusciti. La città dell'Aquila ha scelto di affidare la memoria del terremoto non a un tradizionale monumento, ma a un parco, uno spazio aperto che è simbolo del vuoto lasciato da chi è morto in quella terribile notte. Ma questo spazio è anche simbolo di pienezza. Sarà riempito da tutte le famiglie, dai bambini che giucheranno tra queste aiuole e tra queste fontane. È il vuoto del dolore che viene riempito dall'affetto e dalla memoria. È simbolo della vita che deve rinascere traendo forza dalla memoria di una tragedia. Oggi ci sono finalmente le condizioni per farlo. Grazie. Il nostro arcivescovo, sua eminenza il cardinale Giuseppe Petrocchi, procede ora alla benedizione del parco. Signore, benedici questo parco in cui si fa memoria di questo parco. coloro che nella tragica notte del 6 aprile 2009 sono andati incontro alla morte. Accoglili nella pace gioiosa della tua casa, nei cieli. Dona conforto ai familiari, ai parenti, agli amici tutti. E a questa comunità civile ed ecclesiale che ha sperimentato i giorni crocifissi del sisma. Conferisci la luce del Vangelo e la forza per avanzare sulle vie di una speranza operosa e condivisa. Affidiamo tutti e tutto a Maria, mamma che conosce bene il dolore, ma anche prima testimone della Pasqua. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ludovica Dionisio, allunna dell'istituto comprensivo Patini che ha frequentato la primaria Maria Leventre, nata nel 2009, depone una rosa ai piedi della stelle del parco della memoria. Grazie. Grazie. Pregano i presenti di mantenere il proprio posto. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi e il Ministro per il Sud della Coesione Sociale, Mara Carfagna. Salutano i presenti e i bambini, la scolaresca qui presente, a cui dedichiamo un forte applauso. Grazie. 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 Grazie.